Nel contesto attuale dove la salute mentale dei giovani rappresenta una sfida crescente, l'Associazione Culturale Il Circolo, con il sostegno della Italian Medical Society of Great Britain e della Clinica Italiana Dottore London, ha organizzato una tavola rotonda con psichiatri infantili e psicologhe presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra. È stato un bellissimo evento, abbiamo avuto un'affluenza di pubblico veramente grande. È stato bello poter condividere questa esperienza con il dottore London e con l'Italia Medical Society of Great Britain. È importante organizzare questi tipi di eventi per aiutare le famiglie e i giovani per potersi destrare in questi problemi che sorgono normalmente nella vita di adesso. Al giorno d'oggi, nonostante vi siano report di problematiche sempre più emergenti, legate anche al nostro stile di vita e alle problematiche attuali del mondo moderno, sicuramente ancora non si focalizza sufficientemente sulle problematiche mentali, sia negli adulti che nei più giovani, e soprattutto sulla loro prevenzione. Voglio anche ringraziare il Circolo, l'Italia Medical Society of Great Britain, e i relatori che questa sera sono stati fantastici e non potevano esprimere dei concetti in maniera migliore, concetti molto importanti per genitori e professionisti del settore. Le dottoresse Chiara Colonelli, Francesca Tagliente e la specialista Virginia Veruma hanno trattato la delicata tematica spiegandone sintomi, diagnosi, trattamenti e prevenzione. La serata è stata un dialogo aperto, di connessioni e scoperte, dedicata a chi cerca di capire i disagi ai propri figli e dei più giovani, volendo fare la differenza. Gratifico, l'arte della pasta di Bologna Segui Complitaly sulla tua Google TV o sul tuo telefonino cercando nello store Complitaly Plus. Seguici sui canali social di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok, oppure sul nostro sito www.complitaly.uk. Regalaci un like, seguici e contribuisci a far crescere la tua televisione italiana nel Regno Unito. Complitaly TV, il tuo canale, sempre.